ESECUZIONE DEL DETENUTO NUMERO 1-1-1-1-1 Il detenuto continua a dar fastidio, dice di essere innocente, non lo crede nessuno. Procediamo con l'esecuzione del detenuto fastidioso 1-1-1-1-1. Basta con questa gente eretica che dice cose insensate, la verità l'abbiamo soltanto noi, pertanto possiamo disporre in nome di Dio della sua vita e della sua morte. Quindi, nostro caro, amato, adorato, detenuto, non ti crediamo in ogni caso, non avvaloriamo nessuna tesi, Quindi, rassegnati, tienti pronto, in fondo la morte non è altro che un attimo, la vita sa essere ben più antipatica e odiosa. Non è vero? Lo hai sempre detto tu, e noi adesso ti assecondiamo, mettiti questa camicia e comincia a seguirci. Coraggio, vedrai che sarai molto più sollevato dopo, è un attimo, non succederà niente, tranquillo. Giustizia è fatta, sia lodato Gesù Cristo.